Una nuova sensazionale scoperta al parco archeologico di Pompei. Dalle ricerche archeologiche in corso nella zona dei nuovi scavi, il reggio quinto, emerge lo scheletro di un uomo colpito a morte da un masso staccatosi dal crollo dei palazzi a causa della furia del vulcano. Il corpo è stato ritrovato in prossimità del vicolo dei balconi, sbalzato all'indietro dalla potenza della nube piroclastica. Secondo le prime analisi antropologiche si tratterebbe di un uomo sopra i 30 anni con lesioni alle tibie che avrebbero reso difficile alla vittima camminare impedendoli di fuggire ai primi segnali che precedettero l'eruzione del Vesuvio. Un individuo adulto di almeno di 30 anni, di circa 1,65 m, maschio e che tra l'altro cade sul suo dorso in maniera singolare perché questo lascerebbe presupporre che scappava verso il Vesuvio, cosa un po' bizzarra, forse piuttosto si è girato quando ha capito che arrivava il flusso. Il flusso l'ha completamente avvolto, travolto. Secondo la ricostruzione del team che segue gli scavi, nel luogo del ritrovamento le case erano in parte crollate. Nel vicolo si erano depositati già due metri di lapilli. La pioggia di cenere calda aveva ingoiato gli affacci al piano terra delle abitazioni. Il povero fuggiasco Claudicante deve aver tentato il tutto per tutto riuscendo ad uscire in strada da una finestra del primo piano, ma non è andato lontano.